I fratelli e le stagioni che si danno tra l'oranza e la risorgono in aria, puri che i 200 metri si stanno studiando e adesso lo veniamo, e io la faccio meglio, abbraccia a tutti! Abbraccia a tutti gli stagioni che si spavano, quindi buon lavoro adesso tra i campi. A terzo posto, 3-4. Bravo, bravo! 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 Siamo facciati, tutti i miei quattro posti sono possibili da Forza Lourdes, complimenti a quella squadra del suo regatore, che è veramente promesso in un figlio del Papa. Ok? Buon attacco per tutti i giorni. Buon attacco per tutti i giorni. いい dio GRADE Grazie a tutti.